Immerso nella natura incontaminata, Antico Casale Scopetone sarà la location perfetta per un matrimonio raffinato e al contempo rustico e autentico. I suoi favolosi ambienti e i suoi servizi esclusivi saranno gli elementi che trasformeranno il vostro giorno di nozze in un evento unico e indimenticabile. Il grande salone con soffitto a volte e camino monumentale e l'annessa sala con travia vista su giardino con grande tensostruttura chiusa saranno in grado di accogliere un alto numero di invitati in un ambiente dall'atmosfera calda e accogliente. Il vasto parco circostante sarà il luogo ideale in cui potrete allestire romantici banchetti nei mesi più caldi, sfruttando al massimo le bellissime scenografie naturali della location. Il personale dell'Antico Casale Scopetone si contraddistingue per la sua affabilità e cortesia e sarà in grado di seguirvi scrupolosamente per tutta la durata dell'evento, per garantirvi un servizio personalizzato e attento. L'Antico Casale Scopetone vi offre inoltre la possibilità di alloggiare in una delle sue suite camere provviste di ogni comfort per vivere a pieno della magia dei suoi spazi e trasformare il vostro sogno di nozze in realtà.